Per me è la prima volta appunto Paratissima, secondo me è la prima volta quest'anno ed è anche la prima opera che vendo. Dei compratori so poco, semplicemente mi hanno detto appunto che ogni anno visitano Paratissima e comprano un'opera di artisti emergenti. Sono un veterano ormai di Paratissima, da quella delle carceri, quindi anni 2007 e poi ho visto tutta la piccola storia che è diventata ormai grande di Paratissima. Anno dopo anno è cresciuta e cresciuta e adesso è una versione parallela di Artissima, che però dà la possibilità anche allo sconosciuto, a tutti, di dimostrare il proprio lavoro. Sono Daniele Accossato, faccio lo scultore in prevalenza. L'altro anno è stata la prima volta, è stato un po' questo esperimento, siamo venuti qua con una collettiva, con altri miei colleghi, ex compagni dell'Accademia. A sorpresa ho vinto questo premio, il Toro d'Acciaio, e quindi il premio era questa personale quest'anno qua, per la quale ho lavorato tutto l'anno. Quest'anno è una cosa completamente diversa, vediamo un po' come andrà.